L'emergenza idrica a Chieti, le contromisure adottate dall'ACA, l'azienda consortile acquedottistica guidata da Giovanna Brandelli, ha iniziato proprio dal capoluogo tietino la sostituzione dei contatori. Sarà più facile individuare le perdite. Grazie ai sensori installati vengono infatti segnalate le rotture delle condotte e dove intervenire. Progetto finanziato dai fondi del PNRR, l'obiettivo è ridurre la dispersione sino al 30-35%. Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. È la prima città nella quale sono stati installati nuovi condatori Miter, i cosiddetti condatori intelligenti. Ne sono stati installati 35.000 intelligenti perché la lettura avviene istantaneamente anche da remoto e ciò porterà ad una maggiore chiarezza e ad una assoluta minore possibilità di errori sulla bolletta. Ci sarà la digitalizzazione delle reti che faciliterà la individuazione dei punti più critici evitando delle rotture conclamate, quindi una riparazione più puntuale. E in terzo step è quello del raddoppio dell'adduttrice del giardino. In sostanza sarà più facile individuare le perdite, no? Assolutamente, per le perdite, per la individuazione delle perdite il problema si risolverà con la digitalizzazione delle reti che già sta avvenendo sostanzialmente. L'ultima perché in generale la dispersione di acqua a Chieti ha toccato il 70,4%, lo ha rilevato uno studio della CGA. I motivi sono noti, sindaco, no? Sono noti da tanti anni e l'ACA vuole porci rimedio nell'ambito dei due anni a venire. Noi lo speriamo, come stiamo sperando, che la richiesta del Presidente Marsilio, la Presidenza del Consiglio di Stato di Emergenza per la crisi idrica venga accolta. I cittadini ci accusano, i sindaci accusano i comuni di non fare nulla. Ovviamente questo non è vero perché facciamo tutto quello che la legge e le istituzioni ci permettono di fare. Però sostanzialmente ci sono organi e istituzioni sovraordinate che devono darci le direttive per quello che dobbiamo fare.